Il giudice per le indagini preliminari, Ferdinando Boatiede Mongeo, è arrivato stamane in carcere al Bassone attorno alle 10 per interrogare Fabio Pozzoli, il 34enne canturino arrestato per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebrezza. Martedì notte la sua scoda Fabia si è schiantata frontalmente in Viale Italia a Vighizzolo di Cantù contro la Y10 sulla quale viaggiavano una coppia e la bimba di 16 mesi. La piccola Aurora Sigi è morta poco dopo l'incidente. Pozzoli ha risposto alle domande del magistrato il quale però si è riservato di decidere. Una riserva che nel tardo pomeriggio non era stata ancora sciolta. Il 34enne è assistito dagli avvocati Giuseppe del Campo del Foro di Como e Marta Munafo del Foro di Monza. Il Pubblico Ministero ha chiesto la custodia cautelare in carcere e noi ci siamo opposti ritenendo che non ci siano le esigenze cautelari per la misura, per creazione della misura. Pozzoli, come detto, non si è avvalso della facoltà di non rispondere, quindi si è sottoposto all'interrogatorio del giudice per le indagini preliminari. Ha reso la sua versione dell'accaduto, peraltro già confermando quanto aveva spontaneamente dichiarato nel limite di salza dell'evento. Il 34enne, aggiungono gli avvocati, è molto provato. Lo stato d'animo suo? Pessimo, sotto shock chiaramente. I legali di Pozzoli hanno chiesto la scarcerazione del loro assistito o in subordine il regime degli arresti domiciliari.